Bene ragazzi, riprendiamo la poesia alla luna di Giacomo Lopardi. Questa poesia, se vi ricordate, fa parte della prima raccolta di poesie, quella degli dilli o piccoli dilli, le cinque poesie, in cui è compreso anche l'infinito, scritte tra il 1819 e il 1821. Nel periodo del pessimismo storico, infatti si capisce benissimo che siamo nel periodo del pessimismo storico dal modo in cui il poeta si rivolge alla luna chiamandola prima graziosa e poi omiglia diletta luna. Perché in questo periodo Giacomo Lopardi pensa che la natura sia benigna. E quindi se il poeta si ricorda che è passato un anno da quando si recava sul colle Tabor, sopra questo colle, luogo dell'anima per i leopardi, luogo dell'infinito, il poeta si ricorda che è passato un anno da quando appunto si recava sul colle Tabor, guardava la luna e piangeva. E purtroppo, pur essendo passato un anno, la sua vita non è cambiata, è travagliosa, come scrive il poeta, è piena di angoscia e di sofferenza. Però la luna, che rappresenta la natura, partecipa al dolore del poeta. E' come se volesse quasi consolarlo. E infatti il poeta appunto le si rivolge con questi aggettivi, graziosa, diletta, addirittura l'aggettivo mia, ad indicare una partecipazione affettiva, come se il poeta amasse la luna come una cosa sua. E' diverso appunto l'atteggiamento del pastore nel canto notturno del pastore errante dell'Asia, che fa parte dei canti pisano-reganatesi, quindi periodo 1828-1830, in cui siamo nel pieno del pessimismo cosmico e quindi questa luna a cui si rivolge il pastore non gli risponde, è muta, è intatta, è insensibile alle sofferenze degli uomini. Bene, detto questo, questa poesia la possiamo dividere in due parti. La prima parte che va dal verso 1 fino al verso 10, fino a O mia diletta luna, cioè inizia con O graziosa luna e finisce con O mia diletta luna, è una parte elegiaca e descrittiva. È descritto questo paesaggio lunare con la luna che pende su questo paesaggio e lo illumina tutto e il poeta che piange rivolgendosi alla luna. mentre la seconda parte da E e subito dopo la cesura, attenzione che c'è la stessa tecnica che trovate nell'infinito, e cioè un verso diviso da cesura che ci sta indicando che la poesia è divisa in due parti, però nello stesso tempo queste due parti sono unite perché tra l'una E e la congiunzione E abbiamo la sinale F. Quindi diciamo lo stesso meccanismo, la stessa tecnica che troviamo nell'infinito. Ebbene, questa parte, questa seconda parte, è una parte riflessiva e argomentativa in cui il poeta riflette sul valore della ricordanza, infatti ricordanza o rimembranza. Infatti abbiamo già al primo verso abbiamo il verbo io mi rammento e poi al verso 11 abbiamo la ricordanza e poi al verso 15 il rimembrar, come se fosse una variazio sulla stessa parola, sullo stesso concetto, il concetto della ricordanza, della rimembranza. Sappiamo come sia importante per i Leopardi perché il poeta sosteneva nello Zibaldone che la felicità, se non può esistere nel presente, ecco, può esistere o nella speranza del futuro oppure nel ricordo del passato. perché a ricordare il passato, come scrive anche in questa seconda parte della poesia, ricordare il passato giova e gradito perché ricordare un periodo anche doloroso della propria vita, però a distanza di tempo, che so, a distanza di un anno o di più di un anno, ecco, lo si ricorda in maniera dolce, quasi con nostalgia. e quindi appunto il ricordo che è anche vago e indefinito può diventare dolce a ricordare. Che poi in questa seconda parte ci sono due versi, i versi 13 e 14 che abbiamo indicato proprio con l'inchiostro rosso, cioè nel tempo giovanile quando ancora lungo la spreme è breve alla memoria il corso, questi due versi non esistevano nella prima edizione della poesia, ma erano stati annotati a margine dal poeta. E poi il Ranieri, quando pubblicò l'ultima edizione dei canti, quella postuma, quella del 45, aggiunse questi altri due versi che, ripeto, il Leopardi aveva scritto a margine come un'aggiunta della poesia a indicare che è soprattutto bello ricordare nel tempo giovanile, cioè nel periodo della giovinezza. Perché nel periodo della giovinezza? Perché, appunto, come scrive il poeta, nel periodo della giovinezza ancora la speranza è lunga, perché abbiamo tante speranze e invece il ricordo delle cose passate, soprattutto delle cose dolorose, è breve. E quindi, ecco, se la rimembranza è gradita è soprattutto dolce, gradita nel periodo della giovinezza. Allora, vediamo un pochino di spiegare questa poesia. Allora, facendo anche la parafrasi, allora, cosa scrive il poeta? Rivolgendosi alla luna, o graziosa luna, è un apostrofe, e come anche è un apostrofe, o mia diletta luna, cosa dice? Naturalmente, come al solito, abbiamo l'io lirico, l'io poetico degliopardi che parla in prima persona e che viene anche espresso per metterlo in evidenza. Io mi ricordo che, ormai è passato un anno, venivo su questo colle, con le tabor, a osservarti pieno d'angoscia. E tu, allora, pendevi su quella selva, su quella boscaglia, su quel paesaggio di campagna, il paesaggio appunto dell'idiglio, il paesaggio campestre, e tu pendevi su quel paesaggio, come anche ora fai? Che tutto lo illumini. Vedete, abbiamo il rapporto tra passato e presente, all'or e or. Però, ecco, non c'è un contrasto tra passato e presente, perché, purtroppo, come scrive anche lo stesso poeta, la sua vita non è cambiata. E quindi, il presente è come il passato. Allora, poi cosa scrive il poeta? Ma il tuo volto, cioè il volto della luna, appariva alle mie luci, cioè ai miei occhi, annebbiato e tremolante a causa del pianto che minasceva sulle ciglia. Naturalmente ciglia è un asineddo che perché sta per occhi. Ecco, siccome il poeta piangeva guardando la luna, ecco l'immagine della luna gli appariva tutta spocata, tutta annebbiata. E perché piangeva? Poiché la mia vita era travagliosa, era dolorosa, piena di sofferenza. e lo è tuttora, ne cambia stile, o mia diletta luna. Ecco, questa è la parte descrittiva in cui il poeta, ecco, ripensa al passato, al passato doloroso e sostiene che tuttora il suo presente non è cambiato. E poi arriviamo alla parte, diciamo, riflessiva. Ecco, è come se fossero queste due parti separate, tanto che i critici hanno pensato che le due parti sono state scritte in momenti diversi, come se la parte riflessiva, da eppur mi giova, fino alla fine si è stata aggiunta in un secondo momento. Però, diciamo che non ci sono, ecco, certezze su questo. Comunque, il poeta cosa scrive? Eppure, la ricordanza mi giova, mi serve, e mi serve il ricordare il periodo del mio dolore, perché questo ricordo del passato a distanza di tempo diventa, appunto, dolce, consolatorio. e aggiunge o come come è gradito nel tempo giovanile quando ancora la speranza è lunga, la speranza del futuro e il ricordo del passato invece è breve, come è gradito ricordare le cose passate, sebbene il presente sia triste e sebbene ancora duri l'affanno, duri l'angoscia. Va bene, quindi, il valore della ricordanza, non solo la luna che rappresenta, che rappresenta in questo caso la natura benigna a cui il poeta si rivolge per ottenere consolazione, ma anche il valore della ricordanza o rimembranza come la vogliamo chiamare, che è molto importante per il Leopardi, perché appunto anche ricordare il passato, sebbene questo passato sia doloroso e sebbene ancora il dolore è duri, però diventa consolatorio, perché il passato essendo qualcosa di vago e indefinito è dolce e poetico. Ci sono anche ragazzi le parole chiave del dolore, per esempio quelle che abbiamo indicato con l'azzurro angoscia, pianto, travagliosa, dolore, triste, affanno. Ricordatevi che non c'è il motivo della ricordanza, ma non c'è contrapposizione tra passato e presente e infatti allora e or la sua vita era dolorosa e lo è tuttora e il poeta lo diciamo conferma alla fine della poesia quando scrive sebbene sia ancora il presente sia triste e sebbene ancora la fanno duri. Comunque, una piccola poesia, un idillio, un piccolo idillio formato come tutti gli idilli da Endecasilla Pisciolti, sono sedici Endecasilla Pisciolti, molto simile anche per struttura, ricordatevi la cesura al verso 10 con la sinalefe, quindi molto simile per struttura all'infinito, tanto che abbiamo anche il paesaggio del Colle Tabor come c'è nell'infinito, in cui il poeta ecco, esprime non solo la, diciamo, non solo si rivolge alla luna considerandola come natura benigna, ma anche esprime ecco, il valore della ricordanza, della rimembranza, va bene? Ecco, un concetto fondamentale per la poesia e anche per il pensiero di Lopardi.